buongiorno buongiorno amigli allora quest'oggi se volete sapere perché ho preso la maglia del manchester city video precedente spero piaccia anche alla migli napolitense oltretutto cromaticamente siamo vicini parlo di napoli di napoliere il napoliere del bel giuogo allora ho letto che sarebbero vicini lo botca ed emme uso questi due probabili acquisti per dire cosa secondo me sta succedendo al napoli perché sta succedendo un qualcosa di molto interessante non tutti i mali vengono per nuocere per il buon aurelio de laurentis secondo me che apprezzo e stimo viva aurelione nostra perché dico questo perché l'anno del napoli è stato abbastanza feccato insomma è stato un anno che è andato piuttosto male partito male continuato peggio fino a che siamo arrivati all'esonero di ancelotti all'arrivo di gattuso la zona champions è molto distante serve un mezzo miracolo per raggiungerla ci sono l'atalanta la roma che viaggiano a grandi falcate e sarà veramente molto difficile tornare in champions quest'anno tant'è che mi pare non dico che ci si sia arresi però insomma per me qual è lo scenario che va defilandosi per anche per la prossima stagione in casa napoli l'addio di tanti senatori ok che penso i vari caleon mertens o gente che a napoli da tantissime stagioni e che ha contratti molto onerosi ma penso anche che molti giocatori piuttosto appetibili penso i vari culibali magari lo stesso manolas gente del genere possa addirittura lasciare il napoli anche lei e la scusa tra virgolette per farlo è proprio il fatto che stai facendo un campionato mediocre e che molti giocatori penso anche allo stesso insigne stanno avendo dei problemi con la piazza o comunque di rendimento il napoli viene spesso fischiato cioè grazie tra virgolette a sta stagione estremamente negativa che il napoli sta avendo l'anno prossimo potrai assistere i napoletani potranno assistere ad un grande repulisti del napoli in cui verranno confermate solo due tre pedine la prima che sento è zielinski si vorrebbe ripartire ricostruire il napoli partendo da zielinski io qui non sono tanto d'accordo ma poi ve lo spiego e cos'è che vedo io vedo una campagna di cessioni molto poderosa è un napoli che riparte tra gennaio ma soprattutto a giugno vedrete da profili di questo tipo lobot cadm cioè non grandi giocatori che vanno a puntellare una rosa forte ma ripartire in via mezzana una sorta di reflusso in novità un napoli che non dico smobilita però fa una squadra da nuovo ciclo magari con un anno di transizione per provarsi non mi stupirei se lo stesso gattuso dovesse essere confermato per esempio cioè io credo che paradossalmente sta crisi del napoli qua e sta fine ciclo del napoli dia l'opportunità dell'aurentis di fare quello che tutto sommato avrebbe voluto fare o che gli piace fare cioè cedere molto incamerare molto e ripartire abbastanza tranquilli con un ciclo tecnico che almeno all'inizio non ha grandissime pretese ok io questo vedo al napoli non credo ad un maxi rilancio di un napoli che l'anno prossimo in camera e butta sul mercato decine decine di milioni anzi questo era stato fatto quest'anno per ironia della sorte il fatto di aver preso mano l'asse lo zano senza cedere culibali per me è una cosa che ha scottato un po dell'aurentis perché lui si aspettava una resa diversa della squadra cioè invece si ritrova a dire ma guarda caspita ho dato fondo a grandi investimenti societari per comprare gente di livello questi non mi rendono la squadra non sta rendendo e lui tra virgolette per me se l'è un po legata al dito ha l'occasione per dire dall'anno prossimo si fa come dico io vendo tutti i vendibili vendo gli appetibili confermo questo quel giocatore e si riparte abbastanza tranquilli io questo vedo l'anno prossimo non mi aspetto un napoli che compra fuori classe che compra ho dei dubbi su gattuso perché perché come vi dissi quando era arrivato non sarebbe esattamente un allenatore da napoli a napoli servirebbe come ho sempre detto un allenatore da bel giuoco gattuso non lo è quindi bisogna vedere dai risultati che colleziona ma gattuso al napoli è un po come iachini alla fiorentina non mi stupirei se dovesse far bene o non troppo male di vederlo riconfermato anche l'anno prossimo stessi iachini e infatti viola e azzurro iachini e gattuso sono in una situazione molto simile sembrano traghettatori ma possono non esserlo i parmona manuise mia furbia i parmona però la situazione è simile la situazione secondo me è molto simile dei due allenatori e la squadra vi ripeto mi aspetto una grande cessione di giocatori culibali molti secondo me rischiano di andare via è una ricostruzione ma con un profilo se non basso abbastanza mezzano non non chissà che squadroni rifatti su zielinski vi dico che non sono d'accordo perché lo trovo un giocatore un po sopravvalutato e viste le valutazioni che leggo lui potrebbe la sua cessione paradossalmente potrebbe invece essere un qualcosa che ti fa avere un rimbalzo più grande ok perché cedere quasi tutti per poi invece costruire una squadra mezzana o mediana non particolarmente trascendentale può creare un po di grigiore ma invece magari se trovi qualcuno che 40 50 milioni per zielinski te li da per me è una buona cifra perché non ci vedo sto fenomeno non è un giocatore dal quale ricostruirei il napoli onestamente sentite cosa vi dico sarebbe quasi da ricostruirlo e sarebbe preferibile confermare più insigne che che zielinski un po per il fatto che è napoletano che magari può essere recuperato che può diventare anche a livello di maturazione magari può può incarnare un po una napoletanità positiva ma zielinski onestamente non è neanche un giocatore che dici non lo so è un regista è un pirlo per dire no che ha una sua centralità di gioco è il cervello del napoli e allora ha un senso anche filosofico confermarlo ma zielinski non è un cioè non lo vedo come regista non lo vedo come un cervello è un buon mediano ma che oltretutto non è cioè che cos'è è è un incursore uno che piglia la palla tira da fuori e ti segna ma non capisco onestamente sto sto innamoramento folle per zielinski magari sbaglio io ma non è che mi faccia impazzire come giocatore e sento invece che deve essere il nuovo giocatore centrale del napoli non lo so io io venderei anche lui onestamente e detto questo vi ripeto io se mi chiedono qual è il futuro del napoli a breve medio termine io vi dico credo che da gennaio non tutti ovviamente ma da gennaio a giugno assisteremo a una poderosa sfoltita di grandi nomi e di grandi campioni che dovevano fare le fortune del napole non le hanno fatte questa situazione di acquisti importanti fatti e risultati non avvenuti per me ha scottato dell'aurentis che dall'anno prossimo da giugno cederà in maniera abbastanza pesante a fronte di queste eccessioni tuttavia non credo che si assisterà alla costruzione di una squadra immediatamente formidabile o di grandissimissimo livello come per certi versi si era cercato di fare quest'estate ma si assisterà una ricostruzione senza particolari assilli di volontà di potenza di vittoria immediata o di grandeur calcistica mi aspetto un ciclo di media entità almeno all'inizio non così ferale e su gattuso vi ripeto bisogna vedere come va perché non mi stupirei se venisse confermato gattuso anche se a livello di dna non sarebbe proprio di dna calcistico ovviamente non sarebbe propriamente un allenatore da napoli questo io vedo e che dire l'annata è sotto gli occhi di tutti è abbastanza deludente ma proprio per questo vi dico io credo che il primo deluso il primo arrabbiato il primo anche perché credo che dell'aurentis sia uno che i risultati aziendali e sportivi ci tenga molto è anche lavorato bene secondo me e sta cosa l'ha scottato per me l'anno prossimo un po il suo light motive io credo possa essere quella di adesso facciamo come dico io testa bassa zero cioè sogni sogni di gloria immediata anche no piedi di piombo gran calma ciclo mezzano giocatori alla lobotka alla dem così gente buona da far legna da far numero di anche discreta prospettiva ma non grandissimi fuori classe nel pieno della loro delle delle loro potenzialità questo mi aspetto io ditemi cosa ne pensate un bacione un caro saluto